L'animazione non è altro che un susseguirsi di disegni uno diverso dall'altro che all'interno del nostro secondo di animazione danno l'illusione del movimento. Oggi vi faccio vedere come uno scogliattolino cammina su una pera e quindi la fa ruotare per creare un loop simpatico di pochi secondi di un'animazione che servirà per il video. Una volta fatto il disegno principale poi passo a fare il disegno successivo che è quello che aiuterà a dare il movimento alla sensazione che lo scogliattolo stia camminando. Questo procedimento verrà moltiplicato per altri 25 fotogrammi in modo da andare ad avere il nostro ciclo di camminata finito. Quindi vado a individuare le pose principali che servono per dare l'idea che questo scogliattolino stia ruotando su questa pera. Questo programma mi permette di vedere tutti i frame che sto disegnando e quindi avere già un controllo della regia e del tempo della scena. Adesso che abbiamo realizzato i nostri 25 fotogrammi potremo goderci l'animazione del nostro scogliattolo. Io sono Massimo. Io sono Alessio. E questa è Doghead Animation.